Siamo qui stamattina a portare questi regalini come 500 Club, è una bella cosa, una bella iniziativa. Chiaramente bisogna dire un grazie al Presidente Polimeni per questa bellissima iniziativa. Ringrazio a nome del mio primario e di tutto il personale medico ed infermieristico questa bella iniziativa da parte di Fiat 500 Club Italia, il coordinamento di Reggio Calabria. Grazie per essere venuti qua nel reparto ed aver riletato i bambini ricoverati, anche perché noi dobbiamo considerare che sono giorni di festa e non è facile affrontare la malattia. Quindi grazie per averci portato dei pensierini per i bambini ricoverati e soprattutto per la bella sorpresa della bella Befana. Mi unisco ai ringraziamenti per l'accoglienza del reparto di pediatria di Vibo Valencia e di tutto il personale che ci ha aperto appunto le porte andando a toccare con mano quello che è la sofferenza di chi vive appunto questo momento di ospedalizzazione, ma che speriamo con il nostro piccolo contributo di aver potuto allietare queste giornate. Sappiamo che il gioco è fondamentale per ogni bambino nella sua crescita e che incide fortemente anche sulla ripresa, sul processo di guarigione. Ecco questo diciamo che è stato lo spirito che ha animato questa nostra iniziativa. È un ringraziamento speciale a tutti gli esercizi commerciali, a tutte le persone fisiche e diciamo le varie associazioni che ci hanno permesso di riempire queste calze particolari targate Fiat 500 e quindi di allietare appunto non solo attraverso il gioco ma anche attraverso dei dolciumi, ecco dei momenti ricreativi, dei materiali ricreativi, le calze di questa nostra bella Befana. Passerei la parola a lei. Oggi abbiamo dedicato un piccolo spazio ai bambini dell'ospedale. È sempre emozionante venire a contatto con questa realtà perché tutti meritano tanta serenità, anche bambini che si trovano in situazioni più difficili.